Le differenze di genere influiscono su prevenzione e stili di vita in tema di salute. Se ne è parlato in un momento di approfondimento a Palazzo Camponeschi organizzato dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative organizzate per far conoscere il Piano Regionale di Prevenzione 2021- 2025. La promozione della salute passa attraverso la medicina di genere. Patologie comuni a uomini e donne presentano spesso fattori di rischio, prevalenza, sintomi e progressione di malattia diversi nei due sessi. Differenze di genere incidono sulle risposte a farmaci e vaccini, implicando la necessità di interventi terapeutici e profilattici su misura per l'uomo e la donna. Da qui la necessità di porre particolare attenzione allo studio del genere, inserendo questa nuova dimensione della medicina anche nel campo della prevenzione. Stiamo infatti affrontando il tema della medicina di precisione che significa non rivolgere più la nostra attenzione clinico-assistenziale sulla malattia ma sul malato. Il malato di genere femminile è diverso dal malato di genere maschile perché è la fisiologia, cioè il modo di funzionare dell'organismo maschile che è diverso rispetto a quello femminile e pertanto fin dalla prevenzione, passando poi per la diagnosi e quindi la cura, sempre di più si tiene conto delle differenze di genere. Si parla anche di piano regionale della prevenzione, quali saranno i punti cardine o meglio gli obiettivi? I punti cardine sono dover assicurare nel corso dei cinque anni di attuazione del piano i sei macro obiettivi della prevenzione, fra cui la prevenzione delle malattie cronico-degenerative ma anche la prevenzione delle malattie infettive dominanti che ci sono ancora, l'abbiamo visto, la prevenzione degli incidenti, delle malattie professionali, la prevenzione delle dipendenze. In tutto questo il piano della prevenzione viene attraversato in una sorta di visione unitaria dalla visione di genere, cioè dal doversi preoccupare nel programmare e poi nell'attuare gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, delle differenze di genere che esistono e che possono rappresentare oltretutto un fattore svantaggiante, cioè che crea una particolare suscettibilità nei confronti delle malattie e che quindi richiede interventi differenziati.